Ciao mio caro amico aspirante a trade professionisti e profittevoli oggi è martedì 24 settembre 2019 e permette di dimostrare il primo trade che ho fatto profittevole della sessione questo è il market profile di Ieri Pitusa Session ieri abbiamo avuto una giornata al rialzo con questo importante livello a color magenta durante la Asia Session abbiamo gappato al rialzo e nel London Session il mercato era ancora più dentro il range della sessione asiatica in questo scenario di una gap up opening una piccola gap up perché come vedi a un minuto all'apertura il prezzo si trovava qua e il massimo di Ieri qua il mercato dava indicazioni ad andare a ribasso almeno all'apertura dal P o C della sessione overnight a chiudere il gap perché come vedi sia questo minimo qua dell'Asia sia questo minimo qui della London erano minimi deboli quindi il mercato doveva spazzare via tutti gli stop loss qui sotto per andare poi magari con nuovi buyers andare a rialzo bene il primo trade che ho fatto io con 5 contratti short è stato apparentemente all'apertura ok probabilmente sono entrato sulla falsa rottura dell'inside bar long entrando short perché tutti i polli che sono entrati qua long sarebbero stati stoppati e io ho fatto altro che quello devo aspettare il primo rally sopra il P o C della sessione overnight che c'è anche nelle vie in questa linea rossa come vedi e poi il mercato mi ha eseguito questo è il grafico a 5 minuti i miei primi 3 target erano su questo livello qua gli ultimi 2 target un po' più in basso bene il mio stop loss era sopra il punto di mezzo della sessione overnight il mercato come vedi nel grafico di 2 minuti il mercato subito mi dà ragione mi va a prendere i primi 3 ordini a questo punto muovo il mio stop loss da qua sopra sopra il punto di mezzo della sessione overnight al break even più 1,2,3 punti che non mi ricordo poi il mercato cosa fa? questo è il grafico a 5 minuti quindi la mia intuizione era giusta questa inside bar long a 5 minuti e a 30 minuti uguale nel foot print erano sbagliate poi il mercato va ancora più a ribassa a questo punto io vado a un trading stop profit seguendo i grossi selling balance poi il mercato ha un ticket a mio target fa un veloce rally e mi stoppa in trading stop profit ma non mi importa il primo 3 profitte ore mi ha portato 300 dollari tondi caro amico se anche te vuoi trattare in questo modo fare anche medie rimedi il mercato è difficile all'azione delle opzioni allora scrivi un'altra strada e mando un link sotto a questo video e ti auguro grazie grossi su questi profitti ad ogni tua prossima sessione di trading ciao da Ammati ci vediamo domani al prossimo 3 profitte ore